Finalista regionale del CS Questo sta a 1.600 quasi Porca la puttana Porca la puttana ragazzi Se batto questo ragazzi Veramente sono troppo forte Veramente se batto questo Sono troppo forte Ma questa sarà una delle prime lose della serata Questo non lo batti ragazzi Questo non lo batti Lo batti manco per il cazzo Questa No boost Tocavo un minne che mi spana Di più Spana completamente A voglia a pareggia A voglia a voglia Lo devo fare solamente tiltare L'unico modo è farlo tiltare Al 2 a 1 o al 3 a 1 Se lo riesco a segnare non lo devo schippare Sinistra Per kick off mi stanno andando bene ultimamente Non so come Valzo Ottimo 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 Perfetto Forse riesco a prendermi Anche questo Ma il boost non lo prendo Mi anticipa Qua insicuro Eh già Ho fatto un ottimo 50 Provo a girarmi A tirare direttamente Lui in teoria la prende Però devo riuscire a poterire il boost O a farlo giampare verso il muro Così lo bumpo Perfetto Siamo riusciti a fare la seconda cosa che avevo detto E riesco magari a non farmi anticipare su sta palla E invece mi ha anticipato Faccio una finta Così tira E io Ti lascio il boost laterale Però In compenso Lo anticipo Non pensi che ora si gira E se si gira Sono morto Ok Il boost da 100 mio O me la devo giocare solo mentale Perché è tutta una cosa mentale adesso Devo spaccare mentalmente La butto al lato Faccio una finta di andare a sinistra In realtà Vabbè Contrario In realtà In realtà In realtà In realtà In realtà In realtà Ancora E me lo danco La sto giocando bene mentalmente So sincero Lo sto leggendo bene Diciamo Finta Qua invece Ma letto lui Vieni qua Vieni qua Questo non è delle partite Contro i pro player Altro che Altro che cazzi Questa è qua È una bella partita Cazzo Questa è una bella Bella partita Questa è altissimo Se io sono 86esimo al mondo Lì sarà almeno 50esimo Una roba che sta questo 15esimo Dice Mur Ok Alzo E prendo il 100 di boost Pinta Quanto questo preferisco Ok Buono Buono Anticipato Buono 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 Sto da bamparlo Gli prendo il boost Lì rispetto allo spawn di quello da 100 Se o me Hanno gli è sparato Per un millesimo di secondo Cazzo Finta Vado subito Farò dietro Devo leggerlo per forza Altro che i libri Questo però Io so che il cazzo Beneventano Lo soffre tantissimo Non abbastanza Cazzone Beneventano Ti lo facciamo assaggiare Stato bravo Vado bravo 2 a 1 ci sta A 7 tiri Gli ho fatto Sto bastardo Non puoi pararmi tutto Qua ho fatto un'ottima lettura Il sabato lo ringrazio a fine partita Faccio un bel tiro in porta Madonna che mi ha preso E qua lo bampo A posto Buono 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 Prendo giusto due bustini Tanto lui gli spawna in tempo E può fare il cazzo che vuole Penso mi venga a pushare Tra 3 secondi proprio Mamma mia ragazzi Questo mi pusha In tutte le palle Le prende tutte È incredibile È incredibile questo Questo pusha tutto E le prende tutte È una cosa abbastanza incredibile Questo è veramente forte Qualsiasi palla che pusha Questo sa di prenderla E la prende Non uscire qua Ok Vabbè in realtà Non cambiamo un cazzo Però vabbè 2 a 2 Lui purtroppo se la gioca di skill Io ho per forza di cervello Perché è troppo più forte Il mio questo Perché anche in finale Dell'RLCS Io arrivo in finale Della festa di mia madre Con 84 fps Tra l'altro Non ho boost Dai Io gioco con un ps4 player Tra poco Olè Asposto Va bene dai 19 di boost Forse non è un problema L'ho bumpato almeno Almeno questa consolazione Qui pensa che Lo sapevo Io si aspettava Che andava Che andava Ma la fangula Lui pensava Sono sicuro Che lui Mi ha trastato il boost Lì Gli lascio il boost Non mi faccio bumpare Buono Il boost Non l'ha preso Questa è una cosa Molto importante Quando non può fare Praticamente un cazzo Può fare un cazzo C'è già boost Il boost è fondamentale Per quelle situazioni là Se a me questo Mi pusha Io l'ho regalata Un'altra volta La palla Perché io qua Non posso pusharlo Perché questo Mi fa un reflip game E mi distrugge Ok Ora visto che Tutta la partita Non ho cesato Devo iniziare a cesare Leggermente di più Ma leggermente Perché questo lo capisce Questa palla si alza Vado in mezzo A prenderla Vedi qua La devo cesare Però qua La prendo io Con calma Tanto non può Tirare in porta Pinta Qua invece Mi bamba Ed è goal Va bene Ok Anora non è goal Buono Non so perché Non mi ha Non ha tirato in porta Andare a prendere il boost Non l'ho capita Questa cosa Forse non si aspettava Quella cosma Era palise Fake Ok Vado a prendere Questo boost a 12 E poi lo pusho subito Rip Se l'ha fatto andare Giusto in mezzo E mi ha segnato Questa è stata Molto intelligente Grazie elettro enzo Per l'host Fai nulla a tutti Un attimo Che sto tryhardando E questo è veramente Veramente forte Pick off lento Rip Che è successo? Vedi domani Aspetta aspetta Ah non trizzo Eh infatti Non lo stai utilizzando Contenutone Eh 3 a 2 Sto perdendo Rip Ragazzi mi raccomando Andate a seguire su Instagram Per rimanere Oggi non su tutti i momenti Le streaming Quando esco i miei su YouTube E mi raccomando Ragazzi Mi raccomando Per acquistare Le mie nuove magliette Che sono uscite Prima che finiscono Punto esclamativo Maglia Oh cazzo Questo gioca in error E CS Ed è il 2 punti Più alto di me Questo non sapete Che dito in culo Che è Ma io ho sentito Che soffre tanto Il cazzetto Beneventano E vi assicuro Che se questo perde Flamma come Come un pazzo Questo flamma Tantissimo Perché Odia il cazzo Beneventano Quindi Flamma proprio tanto Per questo motivo Qua ve lo garantisco Infatti aspetto Solo la flammata Te lo giuro Questo è contenuto Per YouTube Ma solo perché Mi flammerà sicuro Ma sicuro Ma proprio sicuro Faccio un kick off Lento Su sinistra E aspetto Che venga a pushare Ma appena finisce il game Ringrazio la sub Tranquillo Tranquillo Tia Faccio un tocchetto Verso il centro Codo Flammami Cazzo se mi devi flammare Prendimi E insultami Distruggimi Mamma se mi insulta Quanto godo Devono capire Che gli RLCS player La devono smettere Di flammare Dovete essere Dovete essere L'esempio Non il negativo Chita murt Olè Sottiamola in mezzo Ok va bene Mike boy Stavo per dire Me lo ricordavo più forte Però non voglio cittare Che mo mi recupera Di solito è una bestia Ora è partito male Chissà che cosa succederà È due punti più alto di me Quindi sta bello alto Puro in top europea Se batto lui Dovrei finire in top 25 Europa tranquillamente Anche leggermente più alto Forse Ok 3 a 0 Quinta su È la top 25 Europa Mi sta aspettando Troppo facile Cazzo benementano Esatto Chi è che non lo vuole Prenditi questo cazzone Benementano Fake Ok Non posso bumparlo Posso solamente Lasciarlo Per forza Anche se La magia sarà Di sterminio toccato Un minimo Buono L'ho anticipato Provo a bumparlo In qualsiasi modo Lo devo bumpar Oppure gli fotto Semplicemente il boost Non l'ho bumpato Sono un coglione 3 a 1 Va bene Va bene Va bene Va bene Con calma Con calma Perché se questo mi rimonta Raga Questo non lo supero più Questo non lo supero più Ve lo garantisco Se Se Non lo supero più No 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 ragazzi Sveglia Porca puttana Sti cazzo di RLCS No 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 Ah basta Sem Sti kickoff No però Basta che kickoff Godo Voleva prendere l'angoletto Voleva prendere Voleva prendere il cazzetto Mannaggi Godo Il boost Non ce l'ho più No Non ho più boost Avessi avuto un po' di boost Sarei sceso molto più velocemente Eh rip Mi fa un reset E mi segna Quando scommettiamo E mi sento così vivo Aspetta Ok Volevo perdere un po' di tempo Come Ibs Però no Direi che va bene così Non fa niente Non fa niente Volevo perdere un po' di tempo Così è quello che ho dato Una difesa a pararla Avrei segnato sulla linea Però Non ce l'ho fatta Sto parla del tutto Faccio un tiro semplice Lui adesso Va a prendersi sicuramente Il boost E secondo me I pusha immediatamente Oh oh Letto 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 Troppo facile per noi Troppo troppo facile per noi Vai Stasera siamo troppo OP ragazzi C'è poco da fare Lo facciamo tiltare Infatti il prossimo replay Se segno Non lo schippo Vai Voglio vedere Quanto si scatena Col suo flame Solito Fake Buono 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 Me l'ha passata Buonissimo Vediamo se mi rimane a pushare No Ah boh dai Facciamolo tiltare un po' Facciamolo tiltare Facciamolo tiltare No problem Sono esperto Nel far pittare la gente Vai tranquillo Eccolo Eccolo E non schippiamo il replay adesso E adesso ne approfittiamo E adesso ne approfittiamo Del tint E adesso ne approfittiamo Ah Spamma Grazie Ah Mi ha fatto Mi ha fatto i complimenti Mi ha fatto Il piccolo tiltone Eccolo qua che arriva Ah Fake sotto Mannaggia Provo a fare un bump a questo Tanto se ne vado al muro Mannaggia Anticipato Vabbè dai Ci sta Sette Ci siamo Ci siamo Per poco Per poco Perché mi flammi Non ti ho flammato Amore mio Ragazzi Vuole il cazzo beneventale Esatto Per poco Per poco E vabbè Mi sta iniziando a flammare Noi ovviamente non rispondiamo al flame Perché noi siamo dei bravi ragazzi Mica siamo come a lui Siamo stronzi E mi sento così vivo Ah Pensavi che non ci fossi in porta Piccolo mio Pensavi male Pensavi male proprio La tiro sempre solo avanti Non ho boost Prendo questo 12 Vado dietro Ah raga Questo qua mi ingula Occhio adesso che mi ingula Qua ha fatto quasi una bella giocata Io vorrei scrivere per poco Però sono troppo sportivo Per farlo Cioè la cosa più tossica che faccio È non skippare i replay Ma ci potrebbero essere mille ragioni Perché io non skippo i replay Quindi Insomma Rosicare perché non skippo i replay È un po' cringe Però vabbè Non ho boost La passi Giusto No Dobbiamo rischiare Ma sì dai Rischiamo Tanto questo lo spacco Questo reset Non mi dire che ha skulato In questa maniera Va bene Riuscito a skulare Non fa niente Non rischiamo più Adesso non rischiamo più Non gli skippo il replay Non gli skippo Non gli skippo Se lo deve rivedere Ha skulato dai Dopo glielo chiedo Se è buono il cazzone Bene mentale Non posso manco fare gli auguri A questo Perché se no si arrabbia Lo devo solo Bambai Esatto così Faccio veramente Altro che il controller Questo tira una testata al muro Muore domani Oh Caspita 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 Vai Ti guardo anche il replay adesso Ti guardo anche il replay È zitto È zitto La sub ovviamente la ringrazia a fine game Tranquilli Tranquilli No raga Da kick off No Basta con questi kick off Codo Però non ho boost Come faccio a difendere questo È impossibile Come faccio senza boost Codo Mo quitta sicuro Sicuro Oh gg Scrivi gg Scrivi gg No come no Come no Non è gg Non è gg L'ha detto lui L'ha detto lui Che bello Che belli i pro player Che vengono pagati E poi rosicano per dare i partiti in ranked La goduria proprio La goduria Oh mio dio Ragazzi Ve lo giuro Faccio la foto Faccio la foto ragazzi Ore Nelle ultime due settimane 218,5 218 ore Nelle ultime due settimane Sapete quante sono 218 ore In 14 giorni Ma 218 ore Nelle ultime due settimane Sono tipo 25 Sono tipo 25 in Europa adesso Ragazzi 218 ore Nelle ultime due settimane Quanto è la media 15 ore al giorno di media Mamma mia Te l'ho mandato Te l'ho mandato in privato No ragazzi Ma è un pazzo 200 Quanto era 218 Ovviamente La perdiamo sicuro La top 100 mondiale Però siamo tipo 25 in Europa Quindi è ottimo Un bel risultato Comunque ci sta Sono contento Mo ce la teniamo Mo ce la teniamo